Eccoci qua in strada per? Mi stiamo andando? Ah non lo so, tu mi hai detto segui la strada? Ah, quindi è una metà ancora da decidere, è ancora l'incontrita. Vabbè allora ve lo diciamo dopo quando arriviamo, adesso non lo sappiamo, quindi a presto, magari vi aggiorniamo in viaggio, ciao! Siamo di nuovo qui, abbiamo un paesaggio qui, perché sì, siamo in autostrada, si capisce, poi ci sono tutti signori, quindi siamo sull'autostrada del sole, ma non lo vediamo, no, non siamo più sull'autostrada del sole, siamo? Sotto, siamo sull'autostrada, non è più la 14? Sì. Ah come si chiama allora? Allora dove stiamo andando ora che lei si ha svelato il nome dell'autostrada? non è ancora noto ma dove siamo in Emilia nelle Marche in Abruzzo ha fatto un gesto strano con Abruzzo se gusta? se gusta E voilà E' stato nascosto dici Wow bagno molto bello Dici che non c'è la tv davvero? Cosa che leggo? E' stato nascosto dici Nooo Posso vedere un altro dopo? Vedete prima insieme? Nooo Fighissimo Però cosa è successo? Lo spendi? Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.